Colleghi, certo di intercettare un sentimento comune di quest'Aula, vi comunico con gioia una bella notizia. Dopo un intenso lavoro diplomatico, oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il Presidente del Consiglio ha già informato i suoi genitori nel corso di una telefonata pochi minuti fa. Pensavo di darvi questa notizia perché sono certo che tutta l'Aula l'aspettava ed è arrivata.